Buongiorno a tutti e ben ritornati in diretta con la social tv della Liberia Bocca, il salotto di Bocca in libreria, ricostruire senza sosta la speranza, col patrocino del Comune di Milano. Ragazzi, sembrava veramente una distanza lunghissima, invece dal 14 settembre ad oggi il tempo è veramente volato, in questi due mesi e due settimane circa vi abbiamo accompagnato con oltre 470 incontri, siete stati tantissimi a seguirci, la pagina Facebook della Liberia Bocca da qualche decina di interazioni mensili, è passata 330 mila interazioni in questi due mesi e due settimane, e spiccioli mi verrebbe da dire, la pagina YouTube che è una realtà nata adesso, nel senso l'ho messa su raccogliendo appunto l'archivio della social tv e quindi tutti gli incontri ha ottenuto in meno di 28 giorni 19 mila minuti di ascolto e oltre 24 mila visualizzazioni. Ma allora che dire, io sono praticamente basito, io sono basito e devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, apportato, sono stati presenti internamente, esternamente, a distanza, in questo veramente salotto. E tra l'altro emozionatissimo di una mail ricevuta ieri dall'assessore alla cultura, al quale ho chiesto, Filippo Del Corno di Milano, al quale ho chiesto di associare il patrocinio del comune di Milano, non più a un periodo, a una tempistica, ma a un'intera manifestazione che è la social tv della Liberia Bocca. E che dirvi, quando ho ricevuto la sua mail di risposta, quasi mi sono commosso, perché dice, chiede ai miei uffici di verificare la possibilità di estensione del patrocino e data richiesto, sulla cui opportunità concordo pienamente. Quindi, che dire, il riconoscimento c'è stato, la politica in alcuni campi, in alcuni ambiti si muove e il sostegno, la speranza, la costruzione di verificare questa sorta di torre di babele immaginaria è data da tutti voi. Ancora oggi devo ringraziare di nuovo un collaboratore a distanza, che è Riccardo Mereo, che tra l'altro oggi interverrà a sorpresa, a sorpresa vostra, non sua perché ovviamente ha già ricevuto il link, in quello che è l'ultimo incontro dell'anno della social tv, che ha messo le basi quest'anno ma continuerà in futuro a tenervi compagnia e a tenere me nel più alto interesse nell'incontrare tutte le persone. Riccardo Mereo oggi mi ha segnalato questo gruppo di ricerca e di cui abbiamo qui una degli esponenti, a quale do il benvenuto. Ciao Lara, benvenuta. Ciao Giorgio, ciao a tutti gli spettatori. Ti ringrazio molto per questo invito, è per un onore partecipare a questa bella iniziativa, che è riuscita a tenere viva l'attenzione sulla cultura in questi mesi difficili e spero anche di tornare presto fisicamente nella libreria Bocca, che è una bellissima libreria. E eccoci qua. Ti aspetto volentieri. Allora, Lara Piffari, tu fai parte appunto di questo gruppo di ricerca, come mi hai detto fuori Onda Radacta. Allora, entra un po' nell'argomento, anche perché poi tu in qualche modo ti occupi anche tu della questione editoria. Esatto, sì, siamo tutti fratelli nella stessa parca in qualche modo, chi da un lato c'è l'altro. Esatto, esatto. Allora dai, raccontaci un po'. Intanto quando è nata questa associazione che appoggia questo gruppo di ricerca, adesso non saprei come definirlo, non avete, giustamente come mi hai detto te, una forma giuridica, ma voi portate avanti delle istanze che vi sentite di sostenere e portare davanti all'opinione pubblica. Vediamo un attimino di entrare addentro a questo tipo di... Allora, Radacta nasce nella primavera del 2019 per iniziativa di due soci di Acta. Facciamo parte appunto di questa associazione più grande, Acta, che esiste da ben dieci anni e che si occupa di tutelare tutti i lavoratori freelance, le partite IVA che non hanno dietro la tutela diciamo di un albo professionale. Acta significa associazione del terziario avanzato, poi chiaramente al momento sono partite IVA non solamente i lavoratori del terziario avanzato perché ovviamente la modalità operativa della partita IVA si è diffusa molto di più in questi dieci anni. Nasce appunto redacta per iniziativa di due soci che lavorano appunto nell'editoria come redattori freelance e si sono detti tra tutti i vari settori lavorativi che vengono indagati su cui sono stati fatti i studi. L'editoria non è stata ancora toccata finora ed è un settore ben disastrato. E guarda, ne ho conoscenza, anche perché ho la fortuna o sfortuna, poi per me è un vantaggio perché io adoro il mio lavoro, verrei qui a vivere all'interno della mia libreria, ma qui da 23 anni, ma ci sono nato, i miei l'hanno presa nel 78, io sono del 73, e quindi io sono nato circondato da questo luogo magico. Mi rendo conto che il settore dell'editoria in tanti campi dell'editoria è veramente una sorta di disastro. Esatto. Poi in questo periodo, diciamo che il Covid ha solo esacerbato ciò che era già sotto gli occhi di tutti, ma questo è sicuramente il periodo molto più difficile. Esatto, sì. E niente, dicevo che appunto è stata fatta una prima riunione a cui sono stati invitati alcuni lavoratori dell'editoria e ci siamo trovati fin da subito con questa impressione, cioè che avevamo tutti un grande senso di solitudine perché ognuno di noi fa un pezzetto di lavoro, non vede mai il libro nella sua interezza, la squadra di lavoro nella sua interezza e quindi c'è stata una grande voglia di condivisione. Chi c'era questo incontro? Non ti voglio mettere in difficoltà se non te lo ricordi, ma chi c'era? Un po' di nomi si possono sapere nell'editoria Librai, editori, distributori? Chi era presente? No, eravamo tutti principalmente o redattori o grafici freelance. Ah, ok. Eravamo, sì, insomma, tra di noi, ecco. E da lì abbiamo iniziato a fare un lavoro più scientifico, tra virgolette, nel senso che abbiamo fatto partire un sondaggio anonimo a cui hanno risposto più di 300 lavoratori del settore per cercare di mappare sia la situazione lavorativa, quindi il tipo di contratti che sono maggiormente diffusi, la quantità di ore che la gente lavora, il profilo, l'identikit del lavoratore editoriale e tutta una parte di compensi, quindi cercare di capire quanto questi altri lavoratori dell'editoria che noi non vediamo mai guadagnassero. Certo, i range di guadagno. E li avete poi raffrontati ad altri settori similari o altre attività in altri settori similari? Allora, no, diciamo che abbiamo fatto un lavoro di raccolta dei principali tariffari degli editori sul mercato, ecco, che è accessibile nella parte riservata del nostro sito perché... E tra l'altro adesso vediamo, avete appunto un sito internet per entrare a conoscenza appunto di questo gruppo di ricerca, tra l'altro un sito che adesso vediamo insieme, ovviamente è Acta, l'associazione dei freelance, scopri Acta, vantaggi, partecipa, incontriamoci, blog, e diventa socio. Allora, raccontaci un po' anche come è strutturato il sito. Intanto vabbè, scopri Acta, ci hai già detto. Vantaggi? Allora, quelli sono i vantaggi in realtà di Acta, quindi dell'associazione principale di cui facciamo parte, per cui chi si associa ha diritto a un'assistenza fiscale e a sportelli mensili. Gli sportelli mensili li facciamo anche noi dedicati appunto in specifico a chi lavora nell'editoria. Sono degli sportelli che facciamo mensilmente, abbiamo iniziato a farli online perché poi le congiunture astrali diciamo non ci sono state amiche e ogni mese ci prenotano persone che hanno appunto bisogno di confrontarsi e bisogno di capire anche dal punto di vista di un'eventuale assistenza legale, cosa fare e come risolvere il loro caso. Acta infatti ha anche tutta una parte di assistenza legale convenzionata, per cui è un'associazione ovviamente che è ben strutturata e che può aiutare chi ha problemi dal punto di vista del lavoro. Certo, poi vedo partecipa, vedo azioni in corso, cosa abbiamo fatto, cosa puoi fare tu. Ecco, cosa può fare la gente che ti sta ascoltando, che sta vedendo, che vedrà questo incontro? Allora innanzitutto partecipare alle riunioni mensili che appunto adesso stiamo facendo online ma le facevamo di persona quando si poteva, che dedichiamo di volta in volta a un argomento specifico. Sono riunioni aperte a tutti, abbiamo anche avuto partecipanti che non lavoravano nell'editoria ma erano curiosi di capire cosa funzionasse e cosa non funzionasse nel nostro settore. Dopodiché cerchiamo, ovviamente adesso siamo un po' fermi sul fronte degli eventi però cerchiamo di fare sempre nuovi eventi per portare all'attenzione del pubblico quello che è il lavoro dietro a un libro. Abbiamo fatto lo scorso mese un ciclo di incontri online dedicati a vari argomenti dal tema del welfare al tema della della contrattualistica quindi il tema legale parlando poi appunto anche di compensi. Un altro problema del nostro settore infatti è oltre all'isolamento è che di soldi si parla raramente mentre in realtà è importante parlare di soldi perché quando c'è la cultura di solito si pensa che basti quella e in realtà non è così. Laura qual è la vostra sede fisica dove fate gli incontri in presenza quando ovviamente si potrà tranne quest'anno che è stato un po' defalcato? Allora al momento siamo un po' orfani di sede infatti se qualcuno si vuole fare avanti nel senso che gli incontri che abbiamo tenuto ne abbiamo tenuti presso un co-working dove lavoravo anch'io che si chiamava Slam che attualmente purtroppo ho chiuso che era un co-working dedicato ai lavoratori dell'editoria della cultura dello spettacolo e l'ultima riunione che abbiamo fatto fisicamente no la penultima l'abbiamo fatta presso lo spazio in forma giovani alla dogana di Milano quindi patrocinati anche noi dal comune di Milano e l'ultima che abbiamo fatto invece in tempo già covid l'abbiamo fatta ci siamo un attimo autogestiti organizzati incontrandoci al parco Sempione dove potevamo tenere le distanze di sicurezza senza stare in un luogo chiuso tutti insieme. Ottimo e poi vedo blog ecco cosa viene affrontato nei blog rispondete alle domande di coloro che sono interessati proponete voi dei quesiti come viene gestito il blog della vostra associazione? Allora il blog è concentrato su tutta una serie di articoli che scriviamo man mano c'è un argomento che richiama la nostra attenzione l'ultimo articolo pubblicato parla del bonus che è stato riservato ai traduttori editoriali con tutte le nostre perplessità relative a questa forma di aiuto mentre invece c'è la parte del nostro sito che si chiama prontuario fac editoria anzi si chiama dove abbiamo raccolto tutte le domande che possono avere possono venire in mente alle persone soprattutto che accedono per la prima volta a questo lavoro che magari finiscono di fare un master in editoria si affacciano sul mondo del lavoro e non sanno bene come orientarsi e qui è proprio organizzato in forma di domanda risposta e crediamo speriamo anzi che sia uno strumento utile per per arrivare fin da subito informati e con delle buone basi perché spesso quello è il problema anche la tendenza anche al ribasso delle tariffe perché non si conoscono le tariffe o la tendenza ad accettare qualsiasi forma di proposta lavorativa fatta via informale quando in realtà c'è tutto un modo cioè c'è una possibilità di tutelarsi con facendo firmare delle lettere d'accordo e quindi cerchiamo di fare anche formazione educazione alla a un lavoro editoriale che sia dignitoso equo e sostenibile esatto e poi c'è l'ultima parte dedicata a diventa socio ecco come si fa a diventare socio della vostra associazione a un costo raccontaci allora questo è sempre il tesseramento alla associazione madre appunto acta che prevede un tesseramento annuo di 50 euro e di 30 euro se non erro per gli under 30 e quindi non è un grossissimo costo e permette appunto di accedere a tutti i vari servizi offerti da acta quindi non il non sentirsi mai soli avere sempre qualcuno con cui confrontarsi e che ti può tutelare acta ha anche fatto portato avanti molte battaglie in parlamento tra cui la riduzione della dell'aliquota al 25,5 per cento adesso se non erro alcuni numeri ovviamente io che parlo di mi occupo di parole non sono proprio molto familiare e per quanto riguarda noi chi è socio acta può accedere alla parte riservata del nostro sito dove trova il tariffario che non abbiamo pubblicato perché in teoria per la legge antitrust sarebbe illegale pubblicare delle tariffe in maniera così chiara ma sono quelle appunto che ci sono arrivate da chi lavora con questi editori quindi sono tariffe assolutamente vere e autentiche allora raccontaci un po' di te all'interno di questa associazione cosa hai fatto concretamente ad oggi da quanto tempo fai parte di questa associazione ovviamente quali sono le speranze per i futuri progetti che avete in mente come pensi appunto di contribuire tangibilmente a migliorare un po' e poi senza dare cifre raccontaci un po' la situazione del sistema che avete analizzato editoriale ad oggi esatto allora racconta di me io sono una lavoratrice principalmente redattrice però quello che abbiamo capito con questa ricerca è che le figure professionali dell'editoria sono sempre più fluide per cui io non faccio solo alla redattrice ma mi occupo anche di coordinamento mi occupo di impaginazione quando quando capita mi occupo di scolastica digitale quindi le nostre competenze sono tutte molto fluide e per questo motivo non non ci proponiamo come associazione di redattori ma di laboratori dell'editoria proprio perché un freelance dell'editoria o una freelance dell'editoria sono possono includere in sé molti molti mondi c'è anche appunto chi chi traduce chi chi illustra e via dicendo io lavoro appunto nell'editoria da quasi dieci anni ormai ho fatto un master dopodiché ho lavorato ho fatto uno stage ho fatto tutti i vari passaggi ho fatto uno stage ho fatto ho lavorato come dipendente con un contratto di apprendistato dopodiché ho aperto partita iva e sono cinque anni che ho partita iva e eh ne ho viste di tutti i colori insomma ho sperimentato sulla mia pelle eh tutte le problematiche ma anche i punti buoni ovviamente del del lavoro come freelance editoriale eh mi sono trovata a collaborare con con redacta perché ero fortemente convinta che ci volesse un una spinta un gruppo d'azione che facesse sentire a vedere anche all'esterno quelle che sono le varie criticità di questo settore perché da sola ho sempre cercato ovviamente di eh come si può dire portare avanti i miei diritti e di farmi forza cercando anche di contrattare i compensi tutto quanto però da soli si è sempre si è sempre deboli ovviamente dico una cosa sempre soli esatto si è sempre soli mentre invece in gruppo si si riesce forse a guadagnare qualcosa di più eh e appunto io lavoravo in questo co-working slam e il gestore il responsabile del co-working mi aveva mi ha detto appunto che sarebbe stata cioè era organizzata questa riunione questa prima riunione io ero già social acta perché in passato mi ero mi ero avvalsa appunto dei dei loro sportelli e quindi avevo deciso di sostenerli e quindi ho partecipato a questa prima riunione e ho trovato fin da subito un ambiente accogliente nel senso di eh un ambiente di pari che volevano eh portare avanti le loro istanze eh quello che mi è piaciuto appunto quello che abbiamo cercato di fare è non portare avanti discorsi generici e rivendicazioni generiche ma portarle avanti partendo da una base certa che appunto è stato questo sondaggio che è stato veramente prezioso perché ha mappato tutta la situazione eh e se io mi sentivo sfortunata per quanto riguardava il mio reddito annuo ho scoperto che in realtà i oltre il 50 per cento delle persone che hanno risposto al sondaggio che potrebbero rappresentare uno specchio abbastanza rappresentativo del settore eh guadagna meno di 15 mila euro lordi all'anno e quindi è diciamo sulla soglia di quella che viene chiamata povertà eh lavorando anche una quantità di ore che va dai venticin dalle venticinque alle cinquanta ore quindi con un lavoro che comunque può essere considerato full time eh da lì diciamo che ho cercato di partecipare quando potevo e nel modo in cui potevo a questa associazione a volte appunto sono io che tengo gli sportelli quindi ascolto eh le storie di chi ha dei casi da presentare eh l'anno scorso abbiamo in occasione di Book City quando appunto Book City ancora si teneva fisicamente abbiamo fatto un bel evento e che rispecchia un po' il nostro spirito perché è uno spirito tra il serioso e il goliardico e abbiamo fatto questa via crucis del lavoro editoriale ci siamo morti per Milano in luoghi chiave dell'editoria la fondazione Feltrinelli eh il Corriere della Sera eh e via di seguito insomma senza riferirsi al luogo specifico ma davanti a ogni tappa abbiamo raccontato abbiamo messo in scena proprio abbiamo recitato quella che poteva essere una storia tipica di di un lavoratore di una lavoratrice editoriale per poi finire con la deposizione della croce abbiamo buttato a terra i libri perché abbiamo abbiamo voluto mettere in scena appunto la passione del lavoratore editoriale che è quella che ti spinge ma è anche quella che ti ti rovina e quindi il doppio senso di passione eh che che ci ci porta avanti di performance social sociale per 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 le strade esatto senti io mi rendo conto che il settore è molto eh in difficoltà tra l'altro tu hai parlato ovviamente di fluidità nelle attività nello svolgere nelle proprie mansioni ma eh purtroppo anche il covid ha dimostrato che oggi più che mai bisogna essere fluidi le situazioni rigide quasi non esistono più eh tranne in alcune eh eccezioni ma che secondo me senza ovviamente dire quali sono queste eccezioni da qui a breve cambierà anche quella situazione perché non è più non è più sostenibile il mondo ha dimostrato attraverso la globalizzazione prima e proprio la risposta a una pandemia che è arrivata tra l'usco e il brusco perché nessuno se l'aspettava ha dimostrato che una questione fissa e rigida perpetua nel tempo non è più sostenibile eh da nessuna parte i governi ci metteranno un po' a rendersene conto ma se ne renderanno conto e quindi eh si liberi chi può cioè eh si salvi eh chi può e mi rendo conto che effettivamente ma quanto secondo te la eh perché comunque io eh ovviamente lavorando in casa da quando sono nato non ho mai avuto queste difficoltà anche se devo essere sincero quando adesso sono il titolare insieme a mia sorella prima ero tra virgolette sotto eh mio padre il mio stipendio è ben al di sotto dello stipendio medio non di un direttore ma di un dipendente di una qualsiasi libreria italiana e la libreria bocca non è una qualsiasi libreria italiana oltre a essere la più antica d'Europa quindi questo non vuol dire nulla poi c'è molta passione quanto invece dipende dalla eh contrattazione tra il soggetto cioè tra te come potresti essere in questo caso e colui che ti dà il lavoro perché invece sento molto che quando vanno a fare i colloqui la prima cosa che dicono oggi nella nostra grande maggioranza ha lavoro se ho questa cifra quindi invece qui nell'editoria come funziona? Allora diciamo che ci possiamo paragonare ad ecottimisti nel senso che spesso ci viene ci viene imposto una tariffa che il più delle volte è una tariffa cartella sulla quale abbiamo ben poco margine di contrattazione eh io appunto lavoro come freelance da cinque anni i casi in cui mi è stato chiesto un preventivo per un lavoro su cui quindi dovevo avere condizione di causa della grandezza del lavoro eh saranno stati tre o quattro di tutti ovviamente ovviamente rido per non piangere è tutto molto ironico è tutto molto ironico ah ok va bene perfetto no perché poi io anch'io conosco molti freelance eh potrei essere putato tale anch'io però fissa di mora ma eh molti artisti e lì va e invece eh ovviamente poi però ci sono delle figure che invece vengono strapagate per dei lavori minimi ma perché hanno un nome allora a questo punto mi chiedo come ci si fa a creare un no quanto è difficile anche per farlo capire perché io lo so nel senso con le esperienze penso anche tu ma quanto è difficile crearsi un nome e arrivare a dire se vuoi me mi devi pagare così in questo settore in questo specifico settore così la gente può capire è molto difficile nel senso che o diventi un collaboratore fidato di una casa editrice e a quel punto conosci talmente bene il suo catalogo la sua produzione che diventi indispensabile ma non mi pare che ci siano casi in cui questo sia successo se non per collaboratori proprio storici quindi ante crisi del 2008 diciamo eh oppure è veramente difficile il problema di base è che come tutti i lavori culturali eh c'è la fila di persone che vuole accedere al a questo tipo di lavoro per cui sostanzialmente il discorso molto triste che ti fanno te lo fanno magari tra le righe però te lo fanno è se non sei tu ci sono altre cento persone dietro di te che possono fare questo lavoro ecco allora mi sembra di capire dalle tue parole comunque avevo già un'idea che anche qui nel nel settore editoria manca un sistema cioè il sistema è una cosa che sta sopra chiunque e che determina delle linee guida e mancando il sistema proprio perché come hai detto tu prima quindi riprendo le tue parole se molli te c'è la coda di gente che per dieci euro in meno lo fa lo sai però questo anche nel campo artistico porta grandi problemi ed è proprio questa disparità questo eh unicità nell'accettare a qualsiasi cifra nel riuscire a trovare sul mercato qualcuno che si offra sempre una cifra inferiore un po' come avviene su ebay quando uno cerca di vendere un libro il libro non è considerato e via uno lo mette fuori a 100 il giorno dopo lo trovi a 90 poi lo trovi a 80 ed è lo stesso ed è lo stesso libro però qui è togliere è svilire togliere il valore invece di un'attività di un oggetto di un prodotto e il problema è qui che manca come nelle arti sistema il quadro non lo compri in galleria perché tanto prima o poi lo sai o un'asta o l'artista che in quel momento ha bisogno eh lo trovi a molto a molto meno ed è molto fare italiano perché poi comunque noi italiani ci mettiamo dentro tutti se possiamo risparmiare l'euro non ti dico cosa saremmo in grado di fare per risparmiare quegli euro quindi è questo c'è anche un cioè a margine di questo discorso c'è da fare altri due discorsi da una parte c'è il problema degli studi editoriali cioè adesso la casa editrice eh che ha sempre meno personale interno che si può occupare del coordinamento del controllo del volume tende a affidare il pacchetto completo a uno studio editoriale chiaramente c'è un doppio passaggio di subappalto e gli studi editoriali fanno delle tariffe non non tutti ovviamente ci sono quelli onesti ma non dico che quelli che fanno tariffe basse siano disonesti e che semplicemente hanno quello scarso margine comunque ti fanno tariffe molto basse fino a 60 centesimi a cartella per la correzione di bozze quando eh una tariffa media dovrebbe andare sull'euro i 30 euro 40 e e dall'altro il l'ampio ricorso agli stage perché si pensa si basta pensare che eh solo a Milano ci sono due master in editoria ce n'è uno a Pavia ci sono c'è un ce n'è uno a Bologna ogni anno eh escono di media da ogni da ogni master 25 persone che più o meno è il numero di di studenti eh e quindi c'è una forza lavoro entrante ogni anno di almeno 50 persone che vengono collocate ovviamente per il loro stage curriculare che dovrebbe essere formativo anche se non sempre lo è eh e che a cui poi viene proposto sempre di prolungare gli stage quindi hai una persona che ti lavora eh gratis o comunque con un rimborso spese di 300 400 euro euro al mese eh al posto di vari pezzetti assegnati a dei professionisti che possono fare questo perché hanno esperienza e hanno competenze per farlo e infatti allora poi qui il problema è un altro infatti l'ultima domanda è questa allora la premessa è che comunque si cammina su un terreno scivoloso per non dire sulle uova o vetri rotti perché poi ovviamente le vostre associazioni sicuramente si rivolgono come tu hai già detto anche prima al Parlamento perché poi le leggi che vengono fatte come l'ultima nell'editoria della scontistica è più un danno che un vantaggio perché poi si cerca di tappare una falla e poi non ci si rende conto che la prova della nave è già sotto sotto oceano quindi il problema è sempre lì e qual è allora quali sono le vostre eh richieste in che modo pensate di poter affrontare il problema perché in realtà ci vorrebbe una sorta di diktat eh comportamentale cosa che ovviamente le democrazie contemporanee nostre che addirittura si può parlare veramente di un eccesso di democrazia non consentono di fare basta vedere anche la gestione del covid prendi un paese come la Cina in due mesi l'ha risolto ragazzi lì ti sparano se esci prendi tutte le democrazie eh avanzate i paesi più ricchi si salvi chi può però eh del resto è così la libertà ha un costo e questo è il nostro prezzo allora noi abbiamo appunto non siamo solamente persone che si lamentano ma abbiamo cercato di di portare avanti delle proposte fin dall'inizio interloquendo appunto con gli editori e eh pian piano anche rivolgendoci a politici quando riescono a darci dell'attenzione eh le nostre proposte ovviamente ruotano intorno ai compensi eh abbiamo calcolato un compenso dignitoso per due tipologie di lavoro base che sono la correzione di bozze e la revisione di traduzione se la media della correzione di bozze è un euro e trenta per avere un compenso dignitoso quindi vivere eh sparcare il lunario a fine del mese eh dovrebbero essere due euro a cartella che eh attualmente non non è disposto a pagare nessuno per la revisione di traduzione parlo di lingue diffuse ovviamente l'inglese e il francese principalmente se la tariffa media è di tre euro noi sosteniamo che appunto per campare dovrebbero pagare 5 euro e 50 cartella che se sono cifre che sentite così sembrano molto basse ma in realtà farebbero una grande differenza una grande differenza comunque guarda Lara possiamo essere certi di una cosa il covid ha insegnato che l'economia spiccia delle grandi aziende ha fallito tant'è che adesso quelle che soffrono di più sono proprio quelle che regalavano gli oggetti perché li andavano a far produrre tra virgolette sfruttando le regole di altri paesi dove potevi far lavorare una persona anche 48 ore al giorno per dirla proprio con sorriso sulla bocca quindi questo è deleterio ci si rende sempre più conto che invece una produzione interna e un aumento dei prezzi anche per diminuire un consumismo isterico perché era tale era un consumismo isterico cioè dovevi assolutamente comprare qualcosa sta venendo meno secondo me il covid tanto negativo da questo punto di vista ha sicuramente acceso un lumino magari non ha dato ancora una strada può essere anche in editoria si riesca appunto a capire che meno titoli fatti meglio più selezionati più capaci di vendere perché più pensati meglio e con un lavoro dietro fatto meglio e retribuito meglio speriamo che sia così la pensiamo allo stesso modo tant'è che io avevo un libro anni 90 edito in audi da 17 mila lire e c'era l'indice la bibliografia ed era un saggio oggi neanche su un libro da 150 euro trovi l'indice per non insieme il pomeriggio prima di stampare il libro è una roba assurda soprattutto nei libri e poi molti libri potrebbero essere veramente non stampati che farebbero un favore a tutto e a tutti però ovviamente ripeto è è una società sull'acquisizione sugli acquisti molto isterica era perché adesso si si può essere appunto che ci sia un passo indietro ecco poi peraltro noi che lavoriamo sui libri parlo in prima persona siamo anche persone che amano i libri quindi in realtà lavorare su libri inutili o comunque fatti pensati male progettati male è anche anche doloroso ecco se proprio dobbiamo dirla tutta allora lara visto che comunque il salotto è ricostruiamo senza sosta la speranza ho messo anche l'incontro l'ultimo incontro della giornata di oggi del 31 12 gran finale con fortunato d'amico giorgio lodetti e riccardo mereo il nostro amico comune come ospite a sorpresa ciao riccardo dai dai se ce l'hai se vuoi farlo un messaggio di speranza soprattutto nel campo dell'esitoria però io sono fiducioso io credo e vado ad oltranza come dico sempre la mia speranza è che ci siano riprendendo il discorso appena fatto che ci siano sempre più libri belli necessari e che ciascun lettore aprendo un libro riesca a percepire quanto lavoro c'è dietro e che non è solo il lavoro dell'autore o del traduttore nel caso di titoli tradotti ma che c'è veramente una un'intera filiera dietro di persone che che lo fanno col cuore con la passione io ti ringrazio ti ringrazio per aver accettato l'invito ti ringrazio per averci portato nel mondo della tua associazione ovviamente un grandissimo in bocca al lupo poi magari con l'anno nuovo quando si potrà essere di nuovo in presenza nello stesso posto magari combineremo anche un evento all'interno della libreria bocca perché mi piace portare visibilità a un'associazione che nasce dal desiderio di migliorare le cose volentieri ricordo solo l'ultima volta il sito che è www.actainrete.it slash redacta e niente chiunque sia interessato ci può scrivere e ci può contattare grazie mille Giorgio buon anno nuovo allora e alla prossima volta